Vi accompagniamo in una breve visita al nodo ferroviario di Lubecca e attraverso il Mar Baltico fino in Danimarca. Le prime idee di costruire una ferrovia che collegasse Lubecca a D'Amburgo risalgono al 1831. Fu necessario però aspettare 34 anni per vedere il primo treno in esercizio. Le lungaggini derivarono dall'indisponibilità del regno danese ad accordare le concessioni per la costruzione della ferrovia Kiel-Amburgo aperta all'esercizio nel 1843, la prima sotto la sovranità danese. La nuova tratta aperta nel 1865 vide subito un notevole traffico merci e viaggiatori. Nel 1929 fu costituito un servizio rapido fra le due città, con i primi treni reversibili a trazione a vapore. Dal 1936 il servizio regionale Lubecca-Amburgo è garantito da carrozze a doppio piano. In origine innovative Vumag con carrello centrale Jacob e gancio automatico Scharfenberg, oggi comodissime Bombardier. In origine la stazione di Lubecca venne costruita in una posizione più centrale rispetto all'attuale, aperta all'esercizio già nel 1906. Tracce del vecchio impianto rimasero visibili fino agli anni Ottanta. Il nodo ferroviario di Lubecca convoglia tutte le tipologie di treni diesel e elettrici, con la predominanza di regionali verso i quattro punti cardinali, con cadenzamento orario e semi-orario nelle ore di punta. Il nodo ferroviario di Lubecca. Il nodo ferroviario di Lubecca. Il nodo ferroviario di Lubecca. Un inconsueto incrocio mobile posizionato al bivio Schwartau-Valdalle, località a nord di Lubecca. Il bivio estrada i treni verso Lubecca-Travelbündestrand sulla KBS 104, località balneare sul Mar Baltico e lo scalo Scandinavian-Kai, prospicente il nuovo terminal Baltic Railgate. In corretto tracciato e in trazione diesel, le linee KBS 145 e 140 raggiungono rispettivamente Kiel e Puttgarden. Da quest'ultima località i traghetti della Scandi Lines conducono treni e auto in Danimarca in poco meno di 45 minuti. Il servizio internazionale è garantito dagli autotreni tedesco danesi IC BR-605 e dagli inguardabili IC3 serie 5000 danesi. Prima di attraversare il mare diamo un'occhiata al nuovo scalo Ray Baltic Gate. Aperto nell'agosto 2003, ha una capacità di 6 binari da 600 metri ciascuno, utilizzati da 22 treni giornalieri, di cui due coppie provenienti da Verona e Novara. Il retroporto è lo scalo di Lubecca-Scandinavian-Kai. Il Femarn-Sund-Brucke è l'anello di congiunzione fra il continente e l'omonima isola. Il ponte sullo stretto di Femarn-Sund consente a strada e ferrovia di raggiungere velocemente il porto di Puttgarden, da dove partono i traghetti per la Danimarca. In origine per attraversare lo stretto di Femarn-Sund era necessario imbarcarsi su un piccolo traghetto per raggiungere l'isola e poi l'approdo di Puttgarden. I primi progetti di ponte ferroviario puro risalgono al 1912. Solo nel 1941, con l'occupazione tedesca della Danimarca, iniziarono i lavori per la costruzione di un ponte promiscuo. L'anno successivo, a causa del conflitto mondiale, si dovettero sospendere i lavori. Nel 1952 vennero presentati due progetti per attraversare lo stretto di Femarn-Sund con un ponte o una galleria. I lavori di costruzione iniziarono nel gennaio del 1960. Il 30 aprile di tre anni dopo, il ponte venne aperto al traffico stradale e ferroviario. In piena guerra fredda, il ponte fu attrezzato con sei camere di ispezione sulla careggiata, ancora oggi visibili, per essere minato in tempi velocissimi. Il viadotto è lungo 963 metri. Il ponte ha una luce di 248 metri. A 23 metri sul livello del mare, ha una struttura di acciaio larga 21 metri, 6 metri occupati dalla ferrovia. L'arco del ponte misura 268 metri. Nel punto più alto raggiunge i 45 metri dal corpo stradale. Attraversato lo stretto e l'isola di Femarn, la ferrovia raggiunge Putgarden, di fronte al porto danese di Robby Ferg. Motonavi traghetto della compagnia Scandi Lines attraversano il Femarn Belt, garantendo il servizio pubblico tutto l'anno. I treni accedono ai garage delle navi in autonomia, condotti unicamente dal macchinista danese, che consegna il treno al collega tedesco nella stazione di Putgarden. Esteticamente imbarazzante, l'automotore danese IC3 è in turno promiscuo con gli ICE diesel del consorzio DB-DSB sulla relazione diretta Copenagan-Amburgo. Effettuato in servizio viaggiatori, il treno si imbarca nella stiva della nave traghetto senza i troppi fronzoli, a cui siamo abituati alle nostre latitudini. La motonave lascia Putgarden e in 45 minuti di navigazione attraversa il Femarn Belt per approdare in terra danese a Robby Ferg. E' piena estate e il traffico sul Baltico è tanto. Turisti, autisti, ma anche semplici pendolari si godono la breve crociera. La nave offre un ristorante, un self-service e una boutique dove si può acquistare ogni genere di comfort o souvenir. Delizia particolare danese le caramelle gommose di liquirizia salata. La nave sputa in ghiotte migliaia di autoveicoli ogni giorno. Le coppie di treni sul Baltico sono solo sette. Prima dell'avvento dell'alta velocità in Germania, esistevano collegamenti fra Copenagan e le principali città europee con carrozze dirette. L'impianto di Robby Ferg è desolatamente vuoto. In orario sono previsti pochi collegamenti regionali. Arriva Lice da Copenagan. Conosciamo un po' la sua storia. Nato come treno per servizi Intercity Express su linee non elettrificate, nel momento di massimo splendore dell'alta velocità in Germania, il BR-605 non ha avuto grande fortuna. Entrato in servizio nel 2001 con 20 unità treno da quattro carrozze, viene assegnato al deposito di Monaco di Baviera, dove espleta servizi verso Dresda e Zurigo. Un anno dopo, a seguito di una rottura di un'asse, tutto il gruppo viene fermato per sicurezza e per approfondite indagini. Rimesso in servizio dopo un anno, DB giudica il treno troppo oneroso per manutenzione e consumo. Dal 2007, dopo l'attrezzaggio con il sistema di sicurezza danese, gli ICE operano sulla rotta Copenagan-Hamburgo e sull'Hamburgo Arus via Flensburg. Terminato il servizio viaggiatori, il treno si avvia verso l'imbarco. Aperto il cancello dai marinai di terra, il BR-605 si infila nella stiva della motonave Deutschland, insieme ai vacanzieri con camper e roulotte. è ora di andare anche per noi. L'idea è di riprenderlo a bordo del traghetto, peccato che l'imbarco passeggeri sia già chiuso. Non ci resta che aspettare il prossimo passaggio e salutare il treno sul Baltico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.